Una domenica di relax al mare si è trasformata in tragedia. Anxello Cara, di 19 anni, di origine albanesima, residente ad Altamura, nel Barese, è morto mentre stava facendo il bagno a Baiaverde di Gallipoli. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il giovane stesse per soccorrere la sua ragazza, che stava facendo il bagno e che mostrava qualche difficoltà per via delle correnti marine. Potrebbe aver accusato un malore che non li ha lasciato scampo. La morte sembra avvenuta per annegamento. Sono stati prontamente allertati i mezzi della Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Gallipoli, che hanno recuperato il corpo del 19enne oramai privo di coscienza e lo hanno condotto a riva dove, ad attenderlo, c'erano i sanitari del 118 che hanno praticato tutte le manovre di rianimazione. Ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a disposizione del medico legale per un'ispezione cadaverica.